Si avvicina la giornata mondiale per combattere il diabete, come sempre c'è una iniziativa all'interno delle farmacie comunali. Sì, il 14 novembre la mattina dalle 8 e mezzo alle 10 e mezzo la gente che vuole fare una glicemia alla farmacia 1 e alla farmacia 3 di Arezzo comunali verrà fatto gratuitamente questo esame ovvero la glicemia e quindi ovviamente la gente deve venire digiuna perché se viene che ha mangiato ovviamente sa. E questo è importante per fare una diagnosi preventiva e precoce del diabete. Il diabete purtroppo ha tutta una serie di conseguenze, lo dico da specialista nefrologo purtroppo a livello circolatorio nel sistema cardiovascolare generale per cui sono colpiti i reni, cuore, cervello, articolazioni, tutto viene colpito per la circolazione. Una malattia che viene messa in difficoltà. Una malattia che si può però gestire a patto che ovviamente venga scoperta, venga capita. Certo, è una malattia che si cura con antidiabetici orali che ora sono sempre più sofisticati e sempre più efficaci e poi anche con l'insulina si arriva a fare in situazioni particolarmente gravi. Per cui direi che è un'iniziativa importante per ricordare a tutti che purtroppo il diabete è una patologia di cui gli italiani ne soffrono in un numero superiore ai 3 milioni e mezzo e purtroppo si prevede un ulteriore aumento perché fattori predisponenti possono essere ad esempio l'obesità, una vita tendenzialmente non sportiva e quindi sono tutte situazioni che facilitano per cui sicuramente diete e sicuramente stili di vita sono fondamentali. Poi dopo subentra l'importanza della terapia. Avete anche diciamo una grande collaborazione con l'associazione diabetici? Certo, dall'epoca del mio amico Edoardo Carrai eravamo già in collaborazione quando io ero il primario della nefrologia, ora che sono presidente abbiamo continuato questo rapporto, questa amicizia e i diabetici appunto sono una nostra attenzione importante perché purtroppo le ricadute possono essere veramente drammatiche.